Meno male, meno male, oi boh, prima abbiamo visto un po' di immagini della festa allo stadio, poi di quella al fila, la festa dal fila è partita lungo un percorso che si è snodato in tutta la città fino al suo cuore pulsante che è Piazza San Carlo, noi l'abbiamo seguito tutto e vi facciamo vedere un piccolo estratto delle ore ed ore che ha impiegato il Pullman a fendere le ali di folla, vediamo un po'. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.